Da Presidente della provincia ma anche da Sindaco del Comune di Notaresco lei ha scritto una lettera a Draghi dicendo che le scuole comunque sono aperte ma a fin dei conti non c'è quasi nessuno perché tra Covid, tra assenze di insegnanti, di alunni la scuola si sta facendo poco o nulla. Sì ecco questo non la scuola era quello che ho detto che poi il sentiment delle famiglie perché sono anche Sindaco del mio paese e nel mio paese che la vita quotidiana è irreale assistiamo a plessi interamente vuoti, in plessi dove ci sono un quinto delle persone, degli alunni che dovrebbero stare lì. Al di là degli alunni abbiamo insegnanti, i supplenti dei supplenti che non riuscivano a trovare, sono problemi del personale ATA, è innegabile che la situazione è difficile. Giustamente io ho detto Draghi non ha deciso perché ha detto che le scuole sono aperte, se decidi, vedete Luca, ti ricorrono in due secondi, ho detto vedetevi, dico sempre che solo gli stupidi non cambiano idea e si poteva almeno pazientare 15 giorni. Qualcuno dice ma allora vogliamo far fermare le scuole? No, potevamo aspettare che passasse, che passava il picco, arrivare al 20 gennaio l'apertura e poi recupereravamo d'estate perché i ragazzi e i bimbi devono tornare a stare insieme. È un dramma, ecco la vita reale purtroppo è un'altra cosa dalle scelte che uno fa. Qui dicono pure che l'economia va forte ma io vi invito a stare notaresco a entrate nei bar e entrate nei ristoranti e vi dicono che fatturano il 50% di quello che era prima con una grave causa che non è che torneremo subito a rifatturare quello che si era prima perché la pandemia, anche il modo di comunicare sta cambiando i modi e gli atteggiamenti delle famiglie, si tornerà più al bar a fare quello che si faceva prima, si tornerà più nei ristoranti, i consumi saranno quelli di prima. Anche qui ci dicono che l'economia va a gonfie vele. Io vedo che nel reale a breve qualche difficoltà. La situazione è drammatica, è complessa, è difficile però bisogna cominciare a cambiare approccio perché così altri anni non possiamo stare. Per chiudere si aspetta una risposta da Draghi. Sono certo che lui in questo è un bravo gestore della comunicazione, anche uno staff importante, sicuramente a breve ci sentiremo.